In settembre, ai campionati italiani assoluti di Torino, l'atleta delle fiamme d'oro si riconferma campione dei 100 e 200 metri, rispettivamente in 10 e 4 e in 20 e 9. La stagione è stata molto intensa e faticosa in proporzione, Berruti è stanco, non ha più voglia di correre e ha le prese con i studi universitari, con i pesanti esami della facoltà di chimica, ma c'è ancora in ottobre il difficilissimo incontro Italia-Polonia di Palermo. Berruti, assente nei 100 metri, è costretto a furor di popolo a scendere in Sicilia e a partecipare ai 200 metri, è malandrato nel fisico e nel morale.